Al Cala Moresca di Bacoli con un party esclusivo si è brindato al gruppo La Ringe Network di Imprese che ha presentato il calendario 2017 curato dal fotografo Salvio Parisi e i dati di Federalberghi su turismo e presenze ristorative e alberghiere. Tema il welcome, ovvero l'accoglienza nei campi flegrei, negli alberghi e ristoranti, fotografati attraverso l'eleganza, cordialità, celebrazione del convivio, cultura e turismo. A farle onori di casa Roberto Laringe è diventato presidente di Federalberghi Campi Flegrei e gli imprenditori del gruppo che dirigono con successo Cala Moresca e il ristorante Gourmet Caracol, Gabbiano, Cora, Villa Obea, Alma Eventi e Lido Giardino. I campi flegrei sono diventati la nuova destinazione di lusso per matrimoni di stranieri al pari di Capri, Costiera e Lago di Como. Arricchiti da nuove mete enogastronomiche, nuovi set per fiction e trasmissioni tv, nuovi flussi turistici. Il gruppo ogni anno è impegnato nel sociale e per il 2017 è prevista la devoluzione di un euro per ogni camera occupata da destinare ai finanziamenti della costruzione di una scuola nella Repubblica del Benin. Il progetto ha infatti il patrocinio del Consolato del Benin di Napoli. Roberto Laringe, imprenditore, presidente di Federalberghi Campi Flegrei. Che cos'è il welcome nei Campi Flegrei? Noi siamo molto felici quando nascono iniziative di qualità sul territorio e devo riconoscere che negli ultimi tempi sono diverse le iniziative di qualità che elevando il territorio ci consentono di lavorare meglio, con un'utenza più qualificata, con un'utenza più alta e io ritengo che la concorrenza sia fondamentale in questo settore e quindi oggi siamo in un contesto competitivo di concorrenza territoriale. Quindi ben vengano le strutture. Io spero che questo sia un effetto traino perché negli ultimi anni veramente si è assistito alla nascita di strutture di qualità che hanno consentito questo passo nuovo che riscontriamo anche per i matrimoni internazionali. Angelo Carammante, chef del Caracol Gourmet, ci descrivi la struttura? Allora il Caracol è un ristorante gourmet che nasce proprio a picco sul mare con una terrazza bellissima e niente, esprimo la mia cucina lì, una cucina mediterranea fatta di prodotti nostri ma in chiave moderna. Allora 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 Allora